Oggi a Camarda l'ultimo saluto a Luca Pulzoni, il giovane maresciallo della Guardia di Finanza di Camarda, rimasto ucciso per errore durante una battuta di caccia in Calabria, a Vibo Valencia, dove prestava servizio. Luca Pulzoni era andato a caccia con un gruppo di persone ed è morto dissanguato. Questo emerge dalle prime indiscrezioni trapelate dopo l'autopsia, dopo un colpo che lo ha preso alla spalla. Luca Pulzoni aveva solo 26 anni, era maresciallo della Guardia di Finanza. Era entrato in finanza all'Aquila alla scuola ispettori e sotto ufficiali di Coppito e si era trasferito poi per lavoro a Vibo Valencia. Il giovane era nato ad Avezzano ma è cresciuto a Camarda, una piccola comunità che lo ha colto con la famiglia e dove la sua morte ha provocato molto dolore e cordoglio nei confronti della famiglia. Il pare di Luca, Massimo Pulzoni, è molto conosciuto in città, luogotenente dei Carabinieri, presta servizio nella caserma del comando provinciale a comando della centrale operativa. La mamma è insegnante, la morte del giovane ha fatto molto scalpore in città e sono state tantissime nei giorni scorsi le manifestazioni di affetto e cordoglio nei confronti della famiglia e anche della fidanzata di Luca, Valentina. Oggi Camarda tributa a Luca l'ultimo saluto. Per la sua morte intanto c'è un indagato, l'amico del giovane che ha sparato il colpo mortale ancora sotto shock.